Guardate queste immagini. Che cosa vedete? Una giovane donna o una donna anziana? È una delle più famose illusioni ottiche, uno di quegli esempi in cui crediamo di vedere qualcosa, salvo poi scoprire che si tratta di tutt'altro. Eppure, tutti noi abbiamo sentito una volta o l'altra qualcuno affermare con decisione, l'ho visto con i miei occhi, per dire che non ci potevano essere errori su quello che aveva visto. Ma è proprio così. Davvero possiamo credere a tutto ciò che vediamo, che sentiamo? Oggi, a Strane Storie, cercheremo di capire alcuni dei tanti modi in cui il nostro cervello ci potrà rinigare. Ben ritrovati, io sono Massimo Polidoro e come ogni venerdì ci ritroviamo insieme per indagare storie misteriose e all'apparenza inspiegabili. Ma, come ormai sapete bene, spesso le apparenze ingannano. Se arrivate qui per la prima volta, ma come me siete curiosi di tutto ciò che è insolito e misterioso, vi invito a iscrivervi al mio canale e, per non perdere i prossimi episodi, vi suggerisco di cliccare anche sulla campanellina. E ora siamo pronti per entrare dentro una macchina straordinaria, il nostro cervello. Vorrei proporvi un semplice esperimento che potete fare ovunque vi troviate. Se però siete in treno o in metropolitana, magari potreste aspettare di essere tornati a casa. Dovete allungare le vostre braccia davanti a voi e poi seguire le mie istruzioni nel video che segue. Pollici verso il basso. Tutti? Provare? Ah, prego. Volevo rimanere presente a me stesso. No, ma no. Nel caso ci fosse da disincastrare qualche aspettatore. Allora, attenzione, la mano destra, che è questa, la mano destra, insomma. Beh, che è questa adesso. Professore, non ci pigli per somarelli. Va sopra la sinistra. Attenzione, mano destra sopra la sinistra. Ce l'avete tutti? Incrociate le dita, così. Lasciate fuori solo l'indice e i pollici in basso. Tutti quanti ce l'avete? Adesso, se avete fatto correttamente, dovreste essere in grado di fare così. Vedete che nessuno ci riesce. Ma lei sì! Eh, io ci sono riuscito! Come mai? Com'è andata? Se l'avete fatto, sono quasi sicuro che alla fine non riuscivate a girare le mani. Come ho fatto io. Ma perché? Per capirlo, può venirci in soccorso Sherlock Holmes. Lei guarda ma non vede, diceva sempre Holmes al suo stupito amico, il dottor Watson, ogni volta che lo sorprendeva con qualche strabiliante deduzione. Vede, mio caro Watson, in realtà non è poi tanto difficile arrivare a tirare una serie di conclusioni strettamente derivanti una dall'altra e ognuna di esse molto semplice. Se dopo aver fatto questo uno scarta semplicemente le deduzioni centrali e presenta al proprio interlocutore soltanto il punto di partenza e quello d'arrivo, ottiene un effetto, direi, straordinario. Il fatto è che gli Sherlock Holmes esistono solo nella fiction, nei romanzi, nei film, nelle serie televisive. La normalità sono i dottor Watson. Tutti noi siamo convinti di avere sotto gli occhi ogni aspetto della realtà che ci circonda, ma è soltanto una grande illusione. Non sto dicendo che viviamo in una sorta di Matrix, l'universo olografico ipotizzato qualche tempo fa dal fisico premio Nobel Gerardo Stoft e dal suo collega Leonard Susskind. Ma sto dicendo semplicemente che guardare non significa vedere. I nostri occhi non sono obiettivi sul mondo e la nostra mente non è una pellicola fotografica sulla quale la realtà imprime le proprie forme e i propri colori. Il nostro cervello trascura automaticamente ciò che non serve, quello cioè che ritiene resti sempre uguale e non nota nemmeno importanti cambiamenti, grandi o piccoli che siano. Difficile da credere? Bene, osservate queste carte da gioco. Sceglietene una e tenetela a mente. Avete fatto? Molto bene. Ora, voi sapete che ci sono persone che sostengono di poter condizionare le scelte degli altri e se io ho utilizzato bene le tecniche che costoro sostengono funzioni, dovrei essere stato in grado di forzare la scelta della vostra carta. Non ci credete? Ebbene, adesso la carta che vi volevo effettivamente mandare l'ho tolta e queste sono le rimanenti. C'è ancora la carta che avete scelto voi? Certo che no. La carta che avete scelto non c'è più. E lei come diavolo fa a saperlo? Forse alcuni di voi avranno intuito come vanno le cose. Il gioco non ha nulla a che fare con la magia e i condizionamenti. Funziona per via di un semplice principio psicologico, quello secondo cui tendiamo a notare solamente i dettagli che ci interessano. Se non avete ancora capito il trucco, ecco nuovamente le carte che vi ho mostrato all'inizio. Ecco, vedete? C'è ancora quella che avevate pensato, giusto? E ora non c'è più. Ma se guardiamo le prime due carte insieme a quelle che vi ho mostrato dopo, ebbè vi accorgete subito che nessuna delle ultime è uguale alle prime. Per forza non c'era più la carta che avevate scelto. È tutto così assurdamente semplice. Tutti i problemi diventano assurdamente semplici quando uno li ha spiegati. Questa semplice gioco è una dimostrazione stupefacente del modo in cui, in genere, noi concentriamo l'attenzione su quello che reputiamo significativo, trascurando spesso altri aspetti dell'ambiente circostante. Non si tratta di distrazione, ma di una vera e propria operazione di filtraggio che il nostro cervello mette in atto di fronte alla realtà. Lo stesso meccanismo di semplificazione del mondo lo troviamo nella frase che vi mostrerò ora e che vi invito a provare a leggere. Sono sicuro che nessuno di voi avrà avuto problemi a leggere e a comprendere questo testo, perché il cervello non elabora ogni singola lettera indipendentemente, ma vede una parola come un tutt'uno. È uno studio dell'Università di Nottingham in realtà, non di Cambridge, come dice il testo. E ci sono, a proposito, alcuni aspetti ancora discussi tra gli psicolinguisti. Tuttavia sembra abbastanza chiaro che, finché la prima e l'ultima lettera della parola si trovano al posto giusto, il cervello riesce a interpretare rapidamente le parole confuse presenti nel testo perché riconosce che si tratta di parole già conosciute, composte dalle stesse medesime lettere. È lo stesso meccanismo per cui, se leggendo un testo troviamo una parola scritta sbagliata, tante volte non la notiamo nemmeno. È come se il nostro cervello facesse un lavoro di correzione automatica. Ed ecco perché non è così facile il lavoro del correttore di bozze e perché ogni tanto nei libri qualche refuso scappa sempre. Daniel Simons dell'Università dell'Illinois e Daniel Levin della Vanderbilt University a Nashville hanno condotto una serie di esperimenti illuminanti che ci dimostrano quanto distratti possiamo essere sul mondo che ci circonda. In un test che ha anche ispirato una celebre candid camera, persone che camminano in un campus universitario vengono fermate da un estraneo che chiede loro indicazioni stradali. Nel bel mezzo della chiacchierata due operai che trasportano una grossa porta di legno passano tra la persona e l'estraneo. E a questo punto succede qualcosa di incredibile. L'estraneo se ne va nascosto dalla porta e un secondo sconosciuto prende il suo posto. Tuttavia, almeno nel 50% dei casi, il passante non si accorge della sostituzione. Non si accorge cioè che lo sconosciuto che chiede informazioni è cambiato. È una persona diversa, con abiti diversi, un altro aspetto, un'altra voce. La medesima cosa succedeva quando un barista complice dello sperimentatore si metteva a parlare con un cliente. Poi si abbassava dietro il bancone, come per cercare qualcosa, e si rialzava un altro barista. Metà dei clienti non si accorgeva del cambio e continuava a chiacchierare come se niente fosse. Questo fenomeno, noto come cecità al cambiamento, illustra bene come in realtà noi vediamo molte meno cose di quanto pensiamo. In pratica, noi estraiamo pochi dettagli che riteniamo importanti e, nell'esperimento della porta, il dettaglio importante è il semplice fatto che c'è un uomo davanti a noi che ci sta chiedendo un'informazione. Per il resto, quando va bene, ci basiamo su una specie di memoria visiva, ma spesso interiorizziamo una realtà che è frutto della nostra immaginazione. Tutto bene finché si tratta di un gioco con le carte o di un esperimento di psicologia, ma le cose iniziano a farsi molto serie quando pensiamo alle descrizioni dei testimoni oculari. Quanto possono essere attendibili? Noi siamo generalmente convinti che se ci passa davanti agli occhi qualcosa di importante, questa deve per forza attirare immediatamente la nostra attenzione. Ma non è così. Ecco perché chi pensa di aver visto un UFO, un fantasma, oppure dopo aver assistito alle esibizioni di un sensitivo, come per esempio nel caso di Gustavo Roll, di cui abbiamo parlato in un altro episodio, si convince che se non ha trovato subito una spiegazione o un trucco, allora significa che erano fenomeni autentici. Ma come abbiamo visto, il nostro cervello non è fatto per accorgersi di questi particolari. E se non siamo espertissimi nel campo degli inganni e degli autoinganni, e poi ancora, ognuno di noi finirà per prendere lucciole per lanterne. Osservate questa fotografia del 1910. Mentre l'uomo sulla sinistra, forse un emulo di Sherlock Holmes, osserva distaccato in lontananza, gli altri due sembrano essere grandi amici. Ma è davvero così? Se osservate meglio la foto, vi accorgerete che l'uomo sulla destra non sta tenendo la mano del compagno, ma ha il braccio ripiegato e appoggiato sulla propria gamba. L'illusione nasce dal fatto che i due uomini indossano giacche di un colore simile e il gomito di ciascuno si trova nella stessa posizione. Quella delle illusioni ottiche è una delle più potenti forme di inganno cognitivo, poiché spesso la vista prevarica sugli altri sensi. Ma nella vita di tutti i giorni, ciascuno dei nostri sensi può essere ingannato. La pareidolia è quel fenomeno per cui il nostro cervello cerca di dare un significato a uno stimolo ambiguo o casuale, proprio come quando osserviamo le nuvole e ci sembra di riconoscere delle forme che hanno un senso. Allo stesso modo, per esempio, se guardiamo i nodi nel legno di questa porta, è quasi impossibile non vedere un volto inquietante e maligno che ci osserva. Allo stesso modo, è straordinariamente facile vedere volti e sagome riconoscibili in tutte queste immagini che sono state create semplicemente dal caso o dalla natura. Allo stesso modo, la pareidolia può essere acustica. Provate ad ascoltare questo brano. Ora ascoltatelo di nuovo, leggendo però queste parole. Vedete quanto può essere potente questo effetto? Questo ci aiuta a capire come mai certe persone si convincono di sentire parole con un senso compiuto in certi suoni confusi registrati con vecchi registratori a nastro, come avviene nella psicoponia, per esempio, e finiscono per pensare che siano le voci dei morti che ci parlano. Quanto al gusto e all'olfatto, a differenza degli altri, sono due sensi che reagiscono a stimoli non fisici ma di tipo chimico e che sembrano relativamente liberi da illusioni, ma non è così. Se, per esempio, immaginiamo di tagliare in due un grosso limone succoso, di stringerne la scorza gialla tra le dita e strizzare il succo in un bicchiere, nel giro di pochi secondi ci accorgiamo che la nostra bocca inizia a salivare. Nella realtà non esiste nessun limone, solo alcune parole e qualche immagine, eppure sono sufficienti a imbrogliare il nostro cervello. Anche l'olfatto può trarci in inganno, soprattutto quando non c'è. Il gusto di una pietanza dipende anche dal suo aroma, per questo un raffreddore rende il cibo senza sapore. Allo stesso modo, alcuni cibi come il rosbif, il salmone o il cavolfiore risultano del tutto privi di sapore se prima di avvicinarli alla bocca ci tappiamo il naso. Ma è sufficiente liberare il naso perché il sapore ritorna. Quanto al tatto, se non vediamo che cosa ci tocca, è molto facile scambiare uno stimolo gelido per uno rovente. Se chiedete a un amico di chiudere gli occhi e gli dite che lo toccherete sulla pelle con un fiammifero appena spento, egli vi dirà di aver sentito bruciore, anche se in realtà l'avrete toccato con la punta di un cubetto di ghiaccio. Questo perché sia uno stimolo estremamente freddo che uno molto caldo hanno l'effetto di sommergere la sensazione di base della temperatura. Infine, occorre essere consapevoli che c'è anche chi approfitta dei nostri limiti cognitivi per trarne un vantaggio illecito. Un classico esempio sono i borseggiatori. Lui è l'esperto di prestidigitazione Apollo Robbins. Apollo riesce a ingannare perché conosce i limiti della percezione e sfrutterà le sue abilità per rubare. I più abili hanno una conoscenza intuitiva della psicologia che ne premia immancabilmente gli sforzi. La tecnica di base consiste nel distrarre la vittima e in quel momento sottrargli il portafoglio. Una delle tecniche più utilizzate, mi diceva un caro amico prestigiatore, il mago Alexander, è quella del bump. Bump è una parola onomatopeica che in inglese significa urto. È una tecnica che si basa sul principio per cui tra due urti ricevuti il nostro cervello registra solo quello più forte. Immaginiamo un signore che cammina per la strada, dietro c'è il borseggiatore che cammina in sincrono con lui, mentre davanti alla vittima designata c'è un complice che cammina verso di lei e che la urta. Nello stesso istante in cui avviene l'urto, il borseggiatore entra in azione e sottrae il portafoglio, mentre il rapinato si concentra esclusivamente su un colpo ricevuto dal complice. Ma l'abilità del borsaiolo sta anche nell'indurre una persona a rivelare spontaneamente dove nasconde i suoi soldi. Per esempio, in Metropolitana, un compare del borseggiatore potrebbe mettersi a gridare in mezzo alla folla «Aiuto, mi hanno rubato il portafoglio!». Istintivamente tutti si metteranno a toccare la tasca o la borsa dove si trovano i propri soldi e in questo modo il ladro potrà andare a colpo sicuro. «A volte mi basta dire a una persona di concentrarsi su qualcosa di diverso per sfilarle l'orologio». Abbiamo fatto solo una velocissima carrellata tra quelle che possono essere le tantissime trappole in cui il nostro cervello può cadere. Ma sono sicuro che già così sarete molto più cauti d'ora in avanti prima di credere a ciò che avete visto e soprattutto prenderete con molta più cautela le affermazioni di chi verrà da voi dicendovi «Devi credermi, è andata proprio così! L'ho visto con i miei occhi!». Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi segnalo che sul tema degli errori cognitivi e degli inganni della nostra mente ho scritto tantissime volte, per esempio trovate qualcosa in rivelazioni oppure nell'indagine sulla vita eterna. Tuttavia, il libro dove vado più a fondo di questi argomenti è certamente Il Sesto Senso, che ormai è esaurito da alcuni anni ma che sto aggiornando e tra poco tornerà disponibile. Continuate a seguirmi e vi farò sapere quando lo potrete trovare. Se poi volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories che pubblico su Instagram oppure attraverso il gruppo Facebook o anche ricevendo l'esploratore dell'insolito, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Ovviamente, anche sul mio canale YouTube è attiva una community dove segnalo eventuali dirette e altre iniziative. E qui invece ci rivediamo venerdì prossimo alle 13.30 con un nuovo misterioso episodio di Strane Storie. Se vi incontrosisce la psicologia dell'insolito, come la chiamo, troverete qui sul mio canale altri episodi ed altri ne arriveranno. Poi potete anche approfondire con i libri, gli articoli, i link che vi ho messo segnalati qui sotto nella descrizione di questo video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi. A presto. È pericoloso essere testimoni oculari, lo sa? E perché? Ma non ha sentito di quella rapina in banca. No, non mi parla. Al ladro è caduta la maschera e al cassiere che aveva davanti ha detto «Ehi tu, mi hai visto in faccia?» E quello disperato «Ebbè sì!» E il ladro gli ha sparato. Poi, mentre stava per uscire, ha incrociato sull'uscio una coppia di anziani. Di nuovo ha puntato la pistola e ha chiesto «Ehi voi, mi avete visto in faccia?» Al che il marito ha risposto «Guarda, senza gli occhiali non vedo palmo dal naso, ma mia moglie ti ha visto benissimo!» E io lo sto anche a sentire.